Adesso è iniziato! Guarda, sono stata capace con il selfie stick! Io odio il selfie stick! Vabbè, buongiorno! 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 Buongiorno? Sì, buongiorno! C'è un po' di sole, c'è la nebbia! E' domenica mattina, sulle 7! Vabbè, stiamo andando avanti, va! Siamo dovuti tornare indietro! Siamo dovuti tornare indietro perché il furbone è dimenticato foglio, cellulare, tutto quanto! Quindi siamo in ritardo! Mi devo ricordare di prendere su te! Come sempre! Io mi prendo su da sola, sai! Comunque! Con oggi si apre la stagione nel canale! Chissà! In realtà abbiamo già fatto qualche video gameplay però vabbè! Vabbè, fatti dal vivo diciamo! Sì, sì, sì! Ecco! Quindi? Quindi, niente, stiamo andando! Mantua, abbiamo saltato! Dovevamo andare però abbiamo saltato! Il micro, ci piace! Non potevamo! Comunque adesso stiamo andando a prendere il cuore! C'è una nebbia! Ma che nebbia! Stiamo andando a prendere il cuore! Fai a dire la nebbia! Fai a dire la nebbia! Ma dici che si vede? Se guardi davanti sì! Selfie stick fa schifo, lo odio come tutte le volte! E... Oh! Si mangerà bene, amo! Oh, santo! Quanti minuti siamo? 30 secondi, stai già parlando di cibo! Non abbiamo neanche fatto colazione! Tu hai fatto colazione? Abbiamo bevuto un bicchiere di coca! Coca! Si! Caraca! Colazione con la coca! Vabbè! Speriamo che il cibo sia buono! Vedremo! Ci vediamo dopo! Ok, quindi... Saluta Quare! Ciao! Siamo ufficialmente partiti adesso? Siamo ufficialmente partiti, sì! Bene! Quindi direzione Mantua Comics! Sì! E a meno che non succeda qualcosa di divertente! Ci vediamo là! Ci vediamo là! Siamo ufficialmente arrivati a Mantua! Si vede la coda? C'è un mucchio di coda! Si vede che sta andando a fuoco... Sta andando a fuoco qualcosa! Dal lacchino delle... Fa ovviamente un freddo pazzesco! Sembra che sia stato il viaggio più lungo di tutta la mia vita! Ci abbiamo messo un secolo ad arrivare! C'è la nebbia! Ah! La tibiana, la tibiana! Tu non parli in Bresciano, non è Geba! Sì! È Geba! Tu devi fare lezione numero due di Bresciano! La nebbia! C'è la nebbia! La Geba! Allora, questa è la coda! Ogni puntata devi raccontare... Una parola nuova in Bresciano! Facciamo le lezioni! Va bene, comunque... Ah! Giusto che siamo solo noi due! A me serve un parrucchiere! Che mi metta a posto questi bellissimi capelli! Oh! Guarda quanto gente! Noi ci dobbiamo fare questa coda! Allora, crediti stampa! Ovviamente, chiusa! Va bene, cercheremo di entrare! Ci vediamo dentro! Ciao! Ok! E non facciamo questa canzone! Wow, fa freddissimo! Oh, guarda quanta roba da mangiare! Cibo! Sì! Oh! Guarda quanta roba da mangiare! Guarda! Cibo! Sì! 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 Che ti hanno fatto? Sono gli stessi che hanno scorsa, solo che non c'è gente, allora ti sembra più bene! Ma no, non c'è, 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 non c'è! Ma io non riesco mai a capire se è accesa, se è accesa, comunque ci siamo appostati in questo fantastico posto! Vediamo tutto dall'alto! Non so se si vede là in fondo che c'è un maxi schermo con... ...cantanto schermi piccoli! Sì! Il nostro capo sta montando la telecamera, la telecamera, la fotocamera... Comunque dicevo una cosa importante prima Quare, hai visto che hai capelli rossi? No! Ecco, guarda! Un par rosso scusami! Guarda! Allora, sto cercando... Guarda che io sono al tonico, il rosso non lo vedo! Urgentemente! Verdi vorrei dire! Sono verdi! Tu li vedi verdi? No! Ok! Sto cercando urgentemente un parrucchiere che mi sostemi i miei capelli! C'è mica la tua cosplayer preferita? Sì! Sì! La mia cosplayer preferita! Ha dei capelli fighissimi! E io gli ho già chiesto se... Quella... Quella... Quella allegra copietta! La copietta fantastica! La bella copietta! Quella copietta! Quella copietta! Non si ricorda il nome! Anche perché non lo sappiamo il nome in realtà! Sappiamo... Non lo so! Come ti chiami? Non lo so il tuo nome! Allora... Non so neanche da questo vestiti! Questi sono! Sai che è la mia ignoranza! Come faccio a spiegarglielo? Quelli che mi avevamo ripreso al Sigurdak... La prima volta che li abbiamo incontrati eravamo al Sigurdak e li avevamo potuto cantare a romatti! Erano vestiti a lei da Final Fantasy mi sembra! Ahhhh! Ahhhh! Ma dai! Scusami! Lei è fighissima! Ha dei capelli fighissimi! Solo che abita... Ica2.0! Sei! Lei! Ecco si! Come ti chiami Ica? Non lo so! Federica! Secondo me si chiama Federica! Lo sa anche a me! Vero? Siete due geni! Ica, Federica siete due geni! Ah no! Potrebbe essere Francesca! Federica Bertani! Ciao Federica Bertani! Ciao Federica Bertani! Sei diventando famosa! Comunque sia! Avrai migliaia di like e di click adesso! Adesso? Voglio i capelli come i suoi! Vici! Però lei abita lontanissimo! Non lo abita! In più sono andata dal parrucchiere e mi ha fatto i capelli... Che sai dove abita ma non sai come si chiama! Si rossi! Si perché gliel'ho chiesto lui! Mi ha fatto i capelli rossi che poi non sono rossi e mamme li ha tagliati! Perché la sua è una simpatia completamente disinteressata! Non le volevo poi farsi sistemare i capelli! Ah ma è simpatica vero! Non è vero! È simpaticissima! Sono sempre carini vado giù! Esatto si! Comunque speriamo che ci siano oggi! Buon cartoon! Ma al di là di questa! Mi serve un parrucchiere! Basta! Chiudo qua! Ciao! E Vigo! Super Mario! Questo ce l'avevo anche io! Ok! No! Ma non farmi parlare da sola! Stavo parlando con te! Ma dove stai parlando? C'era una corsetta tanto carina fatta la forma di biscotto! Meno male che non l'ho sentito! No! C'è qualcosa che ti piace tanto a te? Mamma mia! No! C'è un Pokémon che mi manca! Cibo! Cibo! E lui gioca sempre con i Pokémon! Se trovi una statua di Kenshiro, la compri! La compri! Davvero? La Giulia la chiedi! Ma che bella questa principessina! Non deve essere bella! Non deve essere una... Ah! Gli stiamo già con le promesse! Eh no! Se no allora... Hai ragione! Ma te non so semigliare niente! Hai ragione! Hai ragione! E poi siete super fantastici! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ah già! Ah già! Ah già! Si uscirà bene perché non lo so! Ma ci sono anche loro! Non lo fa partire ma... Si registra quando non parlo! Sì! No! Allora! Ho un serio problema con il selfie stick! Ma serio proprio! Perché non va secondo me! Quindi non... Non sai mai se sta registrando veramente... Esatto! Quindi dobbiamo continuare a fare... Eeeh! 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 Siete uno contro l'altro? Siamo insieme! Ma che divertimento c'è se siete insieme! Dov'è la competitività? Non è divertente se giocate insieme! Sei tu? Allora! Devo dire una cosa importante! Gli sto crepando di fame! E questi non mi stanno dando da mangiare! Perché tu pensi solo a mangiare! E' già un quarto a mezzogiorno! Gli sto morendo di fame! Eh! Bello che siamo arrivati! E' detto... Voi mangiate? Io non ho fame! Però voi potete mangiare! Gna 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 gna! Non posso mangiare sempre da sola! Gna 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 gna! Morirà di fame! Perché io fino a stasera non mangio! Non ci scherzi! Ma scusami! Il gelo! Inverno sta arrivando qua dietro! Quindi inverno sta arrivando e noi filmiamo! Questa città parla del... No! 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 Attrezzista? Si! E' fighissima la canzone che abbiamo scelto! E' fighissimo il video che faremo! Ma che la scelta questa canzone? Greta! Greta! Sì! Il bambino sta avvenendo! Ma che era sicuro! E' che comincia a fare la... Quanta gente! Sei riempito bene! Sei riempito bene, dico! Oh che figo Questo non è un foto set Ci siamo solo messi qua Ma non ci vede? Abbiamo fermato Tony Stark Io amo Tony Stark Mezzo giorno e mezzo Io ancora non la mangio Mi scopri il vero cos'è da morire Ma io mi sto venendo Se io non mangio solo per cosa Ma pensi solo al cibo e basta No non è vero Però scusami eh Guarda Guarda che non è un vlog Ah ci spostiamo? Cioè è sventura intanto E' divertente questa canzone comunque Allegria giardossa Oh mamma mia non lo prendiamo più sul quare Andiamo a darci baci Ho fame felice E adesso finalmente mangeremo Cosa mangiamo? Pizza Pizza Ancora pizza Basta Guarda tu cosa mangi? Poi c'è pollo o pollo? Pollo Pollo Ma che pollo? Pollo Pollo Ma che pollo? Ma che pollo? Cosa è mia? Cosa è mia? Cosa vuoi mangiare? Non lo so Non lo so Sono indecisa Tra cosa? Tra tutto No il pollo però no Ma cosa vuoi? Cosa i siciliani? No no Magari sono mollicchi Non mi piacciono Ma fanno essere mollicchi? Sono fatti il riso Come il panzerotto Ah il panzerotto Ah il panzerotto dici? Sì in effetti Io solo me lo conosco per andare nel microonde Quindi perde Sì ma più una Che non parla di te Ciao Allora Sì quello per me Sto andando a mangiare in realtà Anche io Vero Io ho fame da quando sono arrivato Che mi ero portando a mangiare Sto già accendendo Però non ne abbiamo detto sulla Ma lei si sta già preparando Ha già accettato senza sapere Non posso semplicemente venire verso di me Con sotto una musichetta Di Guardiani della Galassia 2 Aiuto E devi semplicemente fare così Ok? No è un bagno No è imbarazzantissimo Sono solo da sola Ma lo farò tutti Vedrai il video sarà più difficile Facciamo il collage Sarà imbarazzantissimo Sì lo è Sì lo è Sì lo è grazie Ma come sì lo è? La portiamo due quartiere di distanza Sì ma due secondi Se volete venire No 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 State qua Sparcheggiati qua Vabbè Vediamo prendervi dopo Meno testimoni ho Ah ok Bene bene Benvenuti al dietro le quinte Dietro le quinte Vediamo cosa vede Michela Quando vuoi fai la mossa di karate Balissima Ok? Ancora una volta? Almeno 4 o 5 volte eh Pronta? Sì Lo so Vai Vedete Sta benissimo Me l'hanno praticamente cucito addosso in una settimana Perché Perché non se l'ha più colto Sì Faccio fatica Allora lui? Alla prima prova del vestito non ho respirato E secondo me è perfetto Lui? Lui? Perché sei cattivo Pensa al termos di camomilla che mi devo fare la mattina prima di andare con questi due Pronti? Pronti via? Pronti via? l'ho già chiesto un tipo 300 volte agli amici ascoltatori da che parrucchiere vai non si può dire perché lei fanno sempre i capelli di me e me ne fanno questo vai con lei, facciamo qualche volta che vai con lei vai itta, itta, itta cosa vuol dire itta? itta femminile ah itta itta non lo avevo ancora sentito ho sentito Pennywise donna oh ma che freddo però puoi far morire di invernata sono temperati i cosplay siamo tutti qua a guardarti non puoi metterti ansia sì, vedi abbiamo trovato il nostro mitico l'altro è il nostro mitico ormai sono i nostri mitici mitici e ci sono amici c'è anche la bussola stavolta vedi? bella, sì bella, sì scusa questa la voglia nel mio vlog non può mancare ok, pronti? vai vai oh, c'è un nuovo verde lì è il nostro mitico non lo so ma io non glielo chiedo se sono alti più di 1,90 m e pesano più di 100 kg io non glielo chiedo no, no no, no, no mi dice di no quello quelli grossi mi dicono tutti di no ma io voglio fare un cosplay di Grease perchè nessuno lo fa mi vestirò da Sandy la prossima volta mi vesto da Sandy la prossima volta ma stai registrando? mi metto la tuttina nera si perchè tu non sei per quanto ha filmato il cuore sono un clip di un quarto d'ora l'uno davvero? si? è colpa del cuore? beh è definita l'Ilaria c'è qualcuno lì l'Ilaria dove sei? si continua a cercare l'Ilaria se tu continui a dire l'Ilaria nel mio blog stai rifiutando il canzone di me lo devo riguardare tutto qua si perchè quando succede qualcosa di divertente è sempre spenta questa cosa adesso stai a vedere la spengo e succede qualcosa di divertente ah tipo guarda chi c'è non ce l'avevamo ancora visto si esatto perchè qualcuno mi fa spegnere sempre questa cosa qua bene bene posso spegnere? no perchè posso spegnere? ah no ok ciao raccontate la nostra vita negli occhi grazie si stiamo girando il cosplay music video possiamo farvi un paio di riprese? certo molto naturale esatto tutto molto naturale ma sarà il vlog? vlog più silenzioso? si di tutti ah vedi che fanno merenda anche loro? ma che gusto l'avete preso? rosa e melaverde freddo? no temprano con piede anche tu? la fumila verde non so che cosa perchè me l'avete preso uno è buono? e basta però anche io ero indecisa sul gusto si guardale qui le borse fighissime amo cosa? nel vlog le vedrai tutte le volte guarda lì che borse fighissime le vedi? le borse fighissime le vedi? vedi? vabbè le gialle ah sono le borse hai visto? si sono fighissime si vede ma perché tu stai riprendendo tutto il capello vedi? c'è quella forma di biscotti si che si vede tanto le ho riprese tutte le volte che sono passata via ecco stai filmando? si ciao ciao faccio Manuel e faccio il suo feste faccio il suo feste tu ti stanno a fare bellissima hai visto su instagram? cosa? mi hai già messo la foto? ah non ho instagram lo scarichi metti mi like a noi e poi lo puoi anche chiedere ora faccio il like qua like così bene niente devo fare siamo giunti al termine come augusto abbondanza sì stiamo andando a casa siamo stanchi come al solito non è il lucro come c'è no siamo distrutti lo stesso come al solito io mi chiedo perché sono venuto perché mi sono fatto l'italiana è un caldo freddo in un punto in modo di di caldo in un punto in modo di di freddo tipo qua si muore di freddo mi devo mettere il maglione prima di uscire e niente ci vediamo domenica prossima che siamo a Cartoon Mix grazie grazie